Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di oggi, siamo tornati su Minecraft Bug Abuso per il settimo episodio Nello scorso episodio avevamo sconfitto l'Ender Dragon in praticamente 2 secondi Piazzando un Ender Crystal dentro la piattaforma di spawn, della nostra piattaforma di spawn, quella di Bedrock, di Ossidiana 3x3 In questo modo sfruttando un bug l'Ender Dragon è morto istantaneamente droppandoci l'uovo e creando appunto il portale GG, tanta roba, a questo punto mi son fatto un attimo, ah qui ho messo ovviamente l'uovo, mi son risvotato l'inventario, qui abbiamo due Nether Star Ah raga, per tutti i nuovi, le nuove persone che stanno guardando sta serie, questa serie fa parte di un ciclo di bug abuse Che significa che utilizziamo bug di ogni tipo o di qualsiasi tipo per moltiplicare oggetti, per avere vantaggi, per fare roba strana In questo modo riusciamo ad ottenere dei vantaggi notevoli e soprattutto riusciamo a fare roba estremamente figa Infatti oggi andiamo a costruire la nostra base operativa sfruttando l'Ossidiana che ho precedentemente moltiplicato, tutto qua Quello che andremo a fare oggi è proprio creare un bunker di Obsidian, qui in mezzo un bunkerone, esatto, le bunkerones, bunkerones Bunkerone, allora bisogna fare un po' di terraforming, effettivamente sarebbe fare un po' di terraforming Perché qua è molto scomoda come situazione, decisamente scomoda, andrebbero abbattuti tutta questa collina, andrebbe abbattuta E andrebbe, eh esatto, con il, insomma bisognerebbe fare qualcosina eh Quindi secondo, sì potrei mettermi a fare terraforming, ci metterò davvero parecchio probabilmente però Allora raga il terraforming procede in questo modo, ho scavato sti alberi, sto adesso abbattendo questa collina Poi mi passerò, no, forse anche inizio con sta montagna Beh fatto sta montagna e quella collina basta, cioè non è che c'è da fare chissà cosa Quella montagna è forse più semplice della collina per il semplice fatto che ha meno blocchi È più alta ma ha meno blocchi, quindi dovremmo tranquillamente riuscirla ad abbassare tranquillamente Vorrei portare tutto allo stesso livello in modo tale da poter fare una struttura molto molto grande E poi da poter tranquillamente, cioè fare la struttura e poi grande, bella figa Con i sotterranei annessi e connessi, insomma fare una roba particolare soltanto che beh un po' ci vorrà Allora raga, io sto continuando e sto apparentemente spaccando i piccoli Guarda quanta terra mi son fatto, ho deciso di utilizzare comunque l'acciarino Per dire Dio a quella foresta lì perché mi da abbastanza sui nervi Quindi ho preso tre acciarini e utilizzare, ahia, 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 sta prendendo fuoco Zio, zio, bello così, dai fuoco a tutto, sì Ovviamente utilizzeremo, questa tecnica ci darà la possibilità di avere praticamente questa foresta rasa al suolo Il che è molto molto utile per vari e variegati motivi Ora se queste pecore non se ne andranno io penso faranno una brutta fine Però, beh, per ora le lasciamo fare Ho intenzione di chiudere anche tutta la parte della pozza di lava Ma vorrevo prima prenderla la lava perché la riutilizzeremo ovviamente per alcuni sistemi di difesa Per rendere il nostro bunker molto molto sicuro Ho intenzione di fare proprio una roba estremamente sicura Ok, abbiamo sorrotto anche il secondo accendino e così il terzo In questo modo riusciamo davvero a fare una roba figa Volevo dare fuoco anche a tutta sta parte di foresta per il semplice fatto Che conviene secondo me Toglierci già tutto e abbassare tutto a questo livello Lo renderemo tutto, tutto, tutto a questo livello Così fare proprio, proprio una bella pianura Dice perché non sei andato su una pianura, è vero Ma perché qui c'è land, cioè nel senso Sono stato obbligato a scegliere dato che qua dentro c'era Il portale di land e la cosa figa è questa Eccoci qua ragazzuoli, guardate un po' quanto è cambiato tutto il terreno Guardate un po', ho allargato tantissimo qua Ho fatto terraforming qui fino a che non... Cioè per farlo anche scalato, un po' più carino e tutto il resto Ho finito la palla, purtroppo non ho continuato a scavare Qui è tutto, tutto, tutto scavato, tutto allo stesso livello Certo da sta parte non ci sono minimamente spinto Perché ovviamente era impossibile È rimasto un pezzo di legno che andiamo a rimuovere Tac, ok, bellino Vediamo un po' di qua com'è la situazione dall'altra parte della montagna Ma certo che, che miseria Ok, potremmo tranquillamente decidere di comunque avviarci Anche da quest'altra parte La montagna ovviamente non si tocca Quella lì è impossibile Però, però, però ci siamo Abbiamo davvero un grande posto per andare a scavare Poi dobbiamo sicuramente fare dei mi... delle... Bo... cioè distruggere dei collegamenti terrestri Magari qua È perché vedete è collegato Però è una penisola Quindi se noi riuscissimo a creare da qui Un collegamento con il mare che arriva dall'altra parte Sarebbe totalmente isolato sto posto Forse è anche meglio per poterci difendere Quindi sarebbe ancora un'extra La montagna la lasciamo perdere Ovviamente non la andremo minimamente a toccare Unica cosa che forse andremo a sistemare è sta parte qua Bo, lo vedremo prossimamente Adesso devo finire quella parte lì di distruzione Oggi lo buttiamo tutto in terraforming Anche perché sto qua da più di un'ora a scavare E fidatevi che a scavare ci vuole veramente, veramente tanto E poi forse finirò tutta sta parte qui Appianando quello e togliendo la lava da lì Dopodiché abbiamo completato tutto Allora ragazzuoli, la questione è la seguente Ho finito di buttare giù tutta sta roba Ho spianato tutto qua Ho fatto, ecco stavo facendo la parte di risanamento qua Ovvero ho alzato tantissimo tutta sta parte Qui non c'era pressoché niente Ho tolto tutta l'acqua che c'era qua Infatti stavo continuando a piazzare terra qui Ma vi giuro che, cioè è cambiato veramente tanto Sto posto dopo quest'episodio sarà qualcosa di atroce Cioè il cambio totale Mi dispiace non poter fare altro Ma vi giuro, cioè sta sfuggendo di mano la cosa Perché cazzo ci ho messo tantissimo a fare sta parte video Non pensavo, cioè ok si sapevo ci avrei messo parecchio Però magari mi contengo Ho pensato bene, vabbè finiamolo a sto punto sta parte E siamo tutti felici e contenti Quindi potremmo tranquillamente iniziare a fare la casa qua intorno Mettere i primi blocchi qua intorno Per esempio il fatto che siamo molto molto centrati adesso E poi andarci ad allargare il più possibile Sempre più possibile Mi sono fatto un paio di crafting Perché mi sono servito veramente parecchio Perché davvero era incasinatissima la questione Fai le cose, cerca, fai craft Mi sono servito Quindi a sto punto ragazzuoli Che cosa andiamo a fare? Potremmo già delimitare il perimetro con l'obsidian Anzi facciamo con la cobblestone Un bel perimetro Su come fare questa cosa qua Allora l'entrata potrebbe essere tranquillamente un 2x2 Lo facciamo davanti proprio a questa zona qui Vabbè non è una scelta voluta però Forse anche un po' più piccolo qui magari Un 2x2 d'entrata Qui ci facciamo così così a delimitare proprio l'entrata Questo lo possiamo tranquillamente togliere Fare una roba del genere Ok questo è quanto? 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 In totale sono 14 blocchi 14 blocchi 14 blocchi così Così E così Va bene ci potrebbe stare come cosa Perché voglio farlo proprio a fortino Tac E così andando avanti 2 Potremmo Sì sapete? Sì una parte molto ristretta Questa qui può andare bene Oddio Troppo ristretta forse 14 Beh ho 14x14 D'ossidiana Guardate che ci porta via Comunque Parecchia roba Sì poi si allargerà Sì ok partiamo a 14x14 Mi piace l'idea Quindi faremo Le dimensioni saranno queste Tac Tac E fatto tutto così Lo posso già fare Inossidiana? Penso di sì Ok ragazzoli È figo secondo me il fatto che sia proprio centrato al 100% questo Ci sta come cosa Mi piace la tecnica che abbiamo utilizzato Cioè questo è il primo fortino che andremo a creare Vabbè ci sta È un primo fortino Nel prossimo episodio L'andremo proprio a completare A fare una roba figa Ho fatto le entrate ovviamente da tutti e quattro i lati In modo tale da poter rendere il tutto Più facile Attualmente passerò da tutte le parti Poi quando avremo tutta la struttura sopra Sarò obbligato a passare in uno di questi quattro posti Questo è il primo livello Faremo tanti Cioè la prima La base è il primo livello di costruzione Poi ne faremo andando avanti tanti tanti altri Allargheremo il più possibile questa costruzione Per renderla proprio gigantesca E veramente veramente Allora ragazzuoli Che cosa ho fatto? Mi sono duplicato un altro po' d'ossidiana Ho fatto un giro sopra Adesso l'idea che avevo io era quella Di andare a sistemare anche il pavimento Perché effettivamente il pavimentino Come lo vogliamo fare? L'ossidiana è eccessivamente brutta Lo so Non è per niente confortevole Pertanto ho pensato una cosa Noi possiamo intanto scavare Fare un primo livello sotto d'ossidiana Ovviamente dovremo aggiungere anche tutte le mura qua sotto Di ossidiana Ma vabbè non è un problema Dopodiché ci mettiamo sotto l'ossidiana E sopra Andiamo a mettere un altro strato Di quello che ci pare Però poi ripensandoci Ma ci conviene davvero Fare una Dobbiamo fare una Sette Qua ha Mr. Kipa Bim Cioè In cui possiamo fare esplodere Mr. Creeper Non ci griffano niente Cioè nel senso Potremmo arrivare a puntare a questo Quindi A questo punto direi Obsidian 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 Ok ragazzuoli Ho scavato tutto Ma purtroppo avevo fatto mali conti Perché con uno stack d'ossidiana Ci ho fatto solo un giro intorno Effettivamente 14 per 14 Sai che Eh Sono 14 28 56 In totale E 56 Poi ci metti qualche altra ripassata Qui infatti abbiamo fatto un altro giro E è finito tutto Però va bene Che pucino ho fatto? Oddio Ok raga Questo è quanto Questo è l'inizio Ovviamente questo sarà alto eh Noi facciamo bella costruzione alta Adesso Qui ci metto le porte Penso in ferro E per forza Che porte ci dobbiamo mettere Un altro materiale resistente Però poi come entriamo? Cioè se lo devo rompere È inutile E quindi L'idea è mettere Un materiale resistente Che si sposta con i pistoni Però poi mi vanno A dare fastidio Il meccanismo di redstone All'interno Quindi direi Porte Tranquille A Pol pulsantone Ma che si aprono magari anche da dentro Tipo O con una cosa simpata Particolare Strana Facciamo una cosa figa Quindi ci mettiamo le porte E vabbè ragazzoli Per questo video è tutto Vi ringrazio tantissimo per la visione Lasciate un mi piace Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se vi è fatto di condividere Il video su facebook E fare missione a nuove persone E mi raccomando Passate in tutti i link In descrizione Facebook, Instagram e Telegram Diciamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti